si può rifoderare, è rossa, si può riderniziare, perché ovviamente c'è un upgrade enorme rispetto al valore poi lui dice, i cerchi, a me Abarth addirittura non convincono, ho visto la scuderia Lancia della Monte Carlo con i cerchi Lancia, non con i cerchi Abarth, avevo fatto una ricerca, ma avevo fatto due video e non li vado a rivedere ma comunque c'era il subwoofer in basso che è moderno, c'erano delle cose che non tornavano, evidentemente mi pare di ricordare che fosse una prima serie, uno scarico laterale, i due silenziatori, vabbè, si può modificare si fa di tutto, probabilmente è stata fatta una modifica in Fiat, il serbatoio bimotore, la tarra Fiat Auto vabbè, la tarra Fiat Auto, allora questa della tarra te la smentisco subito, devi metterti d'accordo con il tuo amico delle canarie che invece continua a dire che non esiste una delta integrale buona, 9 su 10 non sono buone perché lui sostiene che, ed è vero in parte, che, ma non è colpa tua, nessuno ti sta colpevolizzando però diciamo una realtà, che i libretti, trick e track e trick e ballacca, 30 anni fa, non c'erano i registri di motorizzazione che addirittura ti dava la copia, il concessionario ti dava la copia, queste cose non le sai, te le dico io ti dava la copia fatta ex novo in concessionario del libretto dell'auto questo è quello che racconta lui vatti a vedere i video della delta integrale del tuo amico, lui dice che è tuo amico il tuo amico, il tuo amico ha detto che le delta integrali, non so se tu lo conosci è uno che non conosce nessuno, quindi probabilmente, me l'ha detto a me in privato che è tuo amico non so se è vero, ha detto che le delta integrali la tarra, trick e ballacca fanno tutte, io ti dico quello che dice lui una volta, parlo anni 70 e poi non è censita e questo è il problema vero di quest'auto che non è censita, un Rolex è censito c'è un numero, un quadro è censito ci sono dei registri anche nei quadri antichi ci sono dei registri dove c'è scritto soggetto madonna col bambino penitente dipinta da depositata in certificazione le certificazioni, qualsiasi cosa una penna ha un certificato una matita ha un certificato di produzione poi non c'è un certificato non è censita in nessun sito trovami un sito in cui quest'auto trovami una documentazione che dice che quest'auto ha corso visto che tu dici che fa rally dimmi dove ha corso ha corso Monte Carlo?